Tu sai per me la cosa più importante, la fedeltà, la lealtà, l'amicizia. Uno non ha mai amicizzato l'amicizia per l'affare, perché non sai mai quello che può succedere. Io vero. Ma quando oggi? Eh. Non lo so. Secondo te? Forse, magari si. Forse, dici forse. Dov'è su? Roberto si fanno il culo a capire il cadente, capito? Si è andato a fare lavoro tutti i giorni. E guai a te nessuno. Guai a te se lo faccio. C'è qualche novità Don? Una settimana fa è entrato un dizio qua dentro, tutte le gambe. L'ha successo? Eh. Voi ha messo la mano in dalle altre monetine, a miscare un po' che sei venuto fuori con questa monetina americana con la testa di bufala sopra. Eh, per stasera eh? Sì, penso che lo facciamo stasera. Manna a me. Insomma Don, non vuoi che faccio più il lavoretto? Vado dentro e faccio il culo. La prima cosa è che rivoglio quella cazzo di moneta, oh professor. Buonasera, c'è Anna? Chi le dice no? Allora mi dico, ho sbagliato. Ma questo non è il 2217, no? 834 e chi le dice no? No, dice sì perché chi sei o 2217? Mi chiedevo solo come entri tutto qua. Sta facendo delle quiz. No, è una domanda. Una domanda, è una domanda. E qual è la risposta esatta? Vedo quando mi ci trovo, cazzo Don. Tanto decide sempre tutte cose tu, eh? Don l'Infallibile, Don il Supremo. Voglio chiamare il sasano, chiamare il sasano. No, no, no. Io ho deciso del capisino con viso. Ho una moneta, Don. Una moneta? Una con la testa di bufalo. Le cose a volte non sono come sempre, no? Spiegami che sta succedendo. Io non ho capito, Don. Dov'hai preso quella moneta? A far pure tu sasano o aglioni, Gennaro, quelle lespiche del cazzo. Basta, hai capito? Noi siamo stati scordati a Dio, Don. Allora... Sbattami da me sprofondare in da merda. No! In da merda! Carmo!